siamo su stumble e questa volta per un motivo molto molto bello per la views e per il content perché per cui solo è il migliore e questa volta faremo molte partite però non dobbiamo esagerare quindi ritartiamo subito girata di ruota fortuna fortuna dai dai su qualche cosa di bello qualche skin bella skin bella ma vai a f*** allora ma porco allora niente andiamo a giocare perfetto oggi proveremo a fare qualche trick giocare così no senza nessuna live usciranno pure dei nuovi video ora è una bella vittoria nel video dovevo morire no dai non c'è no c'è tutto a me io non sono caduto per chissà quale fortuna non c'è tutto non c'è tutto non c'è tutto Sì, 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 sì. Oh Dai 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 Mmm non ce l'ho fatto però Oh 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 censuriamo giusto così a caso dobbiamo censurare così a caso ok qui dovrei vincere ok qui allora io qui potrei vincere non so come ma lo so sicuramente faccio anche io faccio molto schifo a stumble giocare ci so fare riesco un po' a giocare ma non è proprio quello che uno ci si aspetta da uno youtuber mamma mia nooo ma vai a fare ok non era una cosa molto bella ho fatto una mossa molto stupida però non me l'aspettavo vai su cos'era mamma mia cos'era quel glitch quel bug incredibile dai stamburgais versus winmatt ah brutta questa vabbè dai ragazzi vinceremo questo round lo vinceremo sicuramente ragazzi spagnoli qui si francesi verstappen wow verstappen max verstappen ok italiani italiani poi un indiano musica mondo ok per favore un altro indiano ragazzi questo era un piccolo video corto no giusto giusto così per vedere se questo video piace no ci sta che nella vita si sperimentano nuove cose quindi lasciate un bel like e fa fate un bel commentino perché così sarei molto più felice sì lo so che siamo cringe però i winmatt devono crescere allora quindi datevi su un supporto perché i vm cioè i winmatt hanno bisogno di money bene io chiudo il video qui ci vediamo ciao ragazzi